Abbiamo concesso un gol su un unico calcio d'angolo, credo, e peccato perché, ripeto, i ragazzi oggi meritavano ben altra sorte. Due punti persi, insomma. Ma vedendo le occasioni gol e quello che si è creato e quello che si è fatto, penso proprio di sì. La prestazione c'è stata, anche le occasioni diverse, che cosa non l'ha convinta oggi pomeriggio? Non mi ha convinto nel momento in cui siamo rimasti in sopra età numerica, dove ci siamo affrettati a cercare l'imbucata centrale quando magari dobbiamo far meglio la circolazione di palla e magari allargare la squadra per andare sui cross lateralmente. Invece ci siamo intestarditi sull'entrare centralmente, però su questi aspetti ci si può lavorare, ripeto, quello che si può lavorare meno è quando magari la squadra ha sbagliateggiamento, cosa che la squadra oggi non ha fatto. Mancavano due punti importanti, però insomma chi è entrato sicuramente non li ha fatti rimpiangere, anche questo lo spirito Virtus, no? Sì, sì, io quando parlo delle risorse che non ho riserve, che ho delle risorse, lo dico perché sono convinto di quello che vedo in allenamento. Nunzella oggi ha fatto una bellissima partita come Armin, però ripeto, l'importante è capire l'obiettivo e il modo in cui andare in campo. Penso che, ripeto, a parte gli episodi di Latina e Frosinone, penso che la squadra si stia ben guadagnando la posizione di classifica che avrei messo la firma all'inizio del campionato, il quattordicesimo, essere in questa posizione di classifica, però mi sembra che ci sta un po' di delusione. A Pescara mancherà Tiamma? Ci teneva a questa partita e sinceramente, poi io sono il primo che lo rimprovera e che magari lo faccio montare la società, però a volte sta passando, ripeto, non vorrei essere ripetito come Latina, sta passando per cattivo, che magari certe cose. Bisogna essere un po' equilibrato in tutti i sensi, cioè nel senso ha pagato il ragazzo, quindi bisogna valutare quello che è, poi ripeto, errore non errore non è quello importante, però mi dispiace per il ragazzo.